Allora, un brindisi per tutti, ovviamente, alle gioie della vita, semplice, semplice, guarda. All'inizio, sono cinque. Buonasera a tutti, benvenuti. Grazie, è la seconda volta che siamo posti in questo locale. Vi ricordo che sono due o tre anni, sono due anni invece di signora, quindi niente, siamo contenti che anche oggi abbiamo una tavola bella ricca e un mila di amici. Perché il vino oggi ha anche amicizia, più che un piatto. E niente, per quanto riguarda la discorso, abbiamo già parlato due anni fa, abbiamo anche delle novità in questo senso, è che l'azienda oggi, come ho detto prima, è diventa un po' di 50, 40 secchi, 48 ettari di tati. L'azienda oggi deve essere un'azienda privata abbastanza, ha una delle aziende medio-grande. Il fatto del Molise ha i pro, ma mi ha avviso, ha i suoi conto. È una terra, mi ha avviso, poco conosciuta. E invece, in realtà, ha tante cose buone. A cominciare dal vino, forse è una delle cose di cui si parla di più, però forse avete anche dei formaggi, caseifici molto potati, avete anche carne di grandissima qualità, dovuto anche il territorio, quasi incontaminato, e questo è importantissimo. e dico sempre che, a Campombasso, all'università, fa delle lezioni sul bio, e forse ci si rende conto, a volte, della fortuna che sia quando si vive in certi posti, perché credo che a Milano o a Parese, o anche in me stesso Franciacorta, che è terra gradita, mi piace molto la nostra ricola, e non c'è, forse, questa forza di qualità sui prodotti, qui è proprio una forza dei prodotti che è impressionante. Si è parlato un po' del discorso dei vini, anche sui vini si è un po' penalizzati, forse, in Polis al fatto c'è l'Abruzzo che spiglie da una parte, la Puglia, l'Ambasso, poi dall'altra parte c'è la Campania, qui c'è un po' circonda che non riesce a esprimere, forse, il reale potenziale, anche perché è quasi anche piccola, e forse c'è bisogno di andare a cercare delle varietà autofne, più impregiate, più ricercare, per poi farle diventare proprio. Per quanto riguarda i nostri vini, praticamente, ad esempio, prima di un'archina per il tipo, uno chardonnay, il chardonnay è del 2017, tutti i vini che noi assaggiamo sono della tendemia scorsa, non sono delle donne annate, che abbiamo bottigliato qualche giorno fa, le facciamo riposare e tra un po' saranno disponibili. Quelle che noi oggi sentiamo sono tutte annate vecchie, ma nonostante sono annate, tra virgolette, vecchie di un anno, e sono ancora belle integre, infatti lo chardonnay abbiamo una bella frutta gialla al naso, piacevole e avvolgente, questo è lo chardonnay età. Io non ero favorevole allo chardonnay, però mi ha detto che un passepartout per l'estero potrebbe essere la PIL per i mercati internazionali, in quanto raccontate della falanghina all'estero che dovrebbe essere improponibile, in questo momento è già difficile raccontare l'Italia, figuriamoci all'estero. Quindi è chiaro che oggi una cantina ha bisogno di un vitino, di un vino, oggi internazionale. E oggi ci riesco a trattare di uno chardonnay. È un non-fa-legno, praticamente tutto acciaio, viene vinificato in modo classico, cioè con una decantazione statica e poi fermento al faiolo. Quindi sono vini molto semplici da un punto di vista tecnologico, però credo che sono anche in linea con cui dovrebbe essere oggi un vino pulito. Io sono dell'idea che oggi dobbiamo dare ai consumatori un prodotto sano, in primis, cioè senza additivi, senza con dei solfiti bassi. Per capire cosa intendo, oggi, se facciamo un esempio, in Friuli o in Veneto, in Campania vanno a trattare con pesticidi 20-25 volte, ma anche 30, in un anno è andato sfavolato, come l'ultima, la giornata 18. Credo che oggi in Morise, o come l'Ambruzzo, si vanno a trattare in Campania 6-7 volte, 10 volte, in un anno è sfavolato. Questo vuol dire che il livello dei pesticidi, che è lo strumento, nel nord dei vini morisani, è molto più basso. Nel caso di Ciri, è veramente ridottissimo, quindi quasi assente. in quanto l'impatto dei trattamenti di difesa è molto, molto basso. Questo è dovuto andare all'aspetto di evocazione del territorio, perché è lì che si gioca la partita. Si lavora su vigneti e su aree evocate. E lì credo che faccia differenza. Io pianto vigneti in aree evocate, devo lavorare meno dal punto di vista sia della difesa che anche in Campania. Questo è un po' il seguito. Quindi un'area prettamente evocata, in questo caso risente anche un po' dell'area marina, che lo fa anche in una notte più minerali, più stabile al vino. Per quanto riguarda la Falanghina, come dicevo prima, non è tipico dell'area molisana, però qui c'è un togliere che non se ne può fare un vino di pregio e di qualità e anche di attenzionarlo nel territorio molisano. Chiaramente noi lavoriamo in questo momento nella fascia costiera, non siamo nella parte interna, che a mio avviso è molto più forte da un po' di vista della natura, che è più facile coltivare, però esce un vino, abbiamo avviso in quell'area tra Campania e Termoli, credo che i vini bianchi vengono molto bene, non solo la nostra Falanghina che è di buona qualità, di oltre la qualità, ma anche altre aree sono visto che i molisani in quella fascia esprimoviti di qualità, dovuto sia come diceva la vocazione, ma soprattutto anche all'esposizione che hanno dei terrestri. Nel nostro caso, quindi abbiamo detto che l'uva è trattata pochissimo, l'altra forza, l'altro buone di forza è la raccolta e la vinificazione quasi in contemporanea. Io raccolgo l'uva e la vado a pigiare in quegli adalegri. Perché è importante oggi vinificare nel breve tempo? Perché se io trasporto l'uva o in alcuni casi, prendo l'uva, taglio lo taglio il disgrappolo, inizia il processo di ossidazione sopra i 12 gradi. Quindi si inizia già a rovinarsi la catetatina. Invece di vinificarla subito in azienda è un punto importantissimo, un fatto di grande apprezzamento. L'altro aspetto importante riguarda il discorso dei solfiti, quindi un tono di solfiti molto molto basso e questo lo possiamo vedere, lo vedrete durante la serata o anche a fine serata anche domani in cui a meno che non beviamo dosi eccessivi di alcol non dovremmo avere la bocca amara non dovremmo avere un mal di testa che è classico ad esempio se bevete un vino del nuovo tipo prosenco tutte le volte potrebbe dare questo tipo di problematiche. L'altro aspetto importante è questo quindi l'aspetto solutistico che non sia determinante nella scelta di un vino e poi vediamo anche di offrire un camice piacevole che è un piacevole che in realtà porta alla pelle è una grande pretesa che è un vino che si fa bere un vino fincino ed è quello oggi che offriremo dei piatti o dei vini veri con dei sapori molto forti incisivi credo che oggi si avvicinano di più credito l'altro aspetto è l'aspetto dell'evoluzione più delle volte ci facciamo così altri ristoratori si fa una condizione dall'annata se non si fa l'annata nuova diventa uno stress il vino già per l'annata diventa non buono invece oggi stasera abbiamo la testimonianza che stiamo degustando l'annate di un'altra che non sono più vecchissime però che sono ancora mi piacere posso dire che oggi il consumatore straniero è più potenso a questo tipo di prodotto quindi con la morbidezza l'evoluzione leggermente facciata io vi lascio alla tavola sono arrivati i piatti se ci sono domande altrimenti non appetito ci vediamo per il vostro potere grazie